A Ponte Gagnano Faiano, sotto l'albero di Natale, regali carichi di acidità politica. Il rinnovo del Consiglio Comunale, in scadenza per la prossima primavela, sta scaldando le varie forze politiche e da un po' di tempo a questa parte i veleni sembrano aver contagiato la stessa maggioranza comunale, guidata da Ernesto Sica. Le continue altalene di dimissione, non ultima quella dell'assessore alla pubblica istruzione Lucia Zoccoli, sono le ultime di una lunga questione scaturita, evidentemente, proprio in virtù della scadenza amministrativa. Ed a questo punto tutti puntano il dito contro il sindaco uscente, che si sta avviando con affanno a portare a compimento il suo impegno politico programmatico iniziato nel 2008. C'è fermento tra le varie forze politiche locali e quello di quest'anno sarà un Natale, che sarà infiammato dal dibattito politico senza esclusione di colpi. Senza voler entrare nel merito, le prime picconate contro Sica si sono manifestate già qualche settimana fa. Infatti i rappresentanti di Sinistra Ecologia e Libertà, attraverso una nota stampa, si sono scagliati contro il primo cittadino Sica, per aver deliberato circa 200.000 euro per realizzare le feste collegate al periodo natalizio, invece di preoccuparsi delle persone più deboli e delle famiglie in difficoltà. Mentre il neocandidato alla carica di sindaco del centro-sinistra Giuseppe Lanzara, scelto attraverso le primarie, è ormai un fiume in piena. La sua recente nota stampa inizia dal PUC che sfocia su vari fronti. I vari partiti politici, sia di destra che di sinistra, si stanno confrontando per costruire le alleanze. Sicuramente di minora entità è la diatriba politica che si sta consumando ad olevano sul Tusciano, in vista della scadenza amministrativa dell'Aggiunta Comunale guidata da Adriano Ciancio. Anche qui, in primavera, gli elettori saranno chiamati al voto per il rinnovo del Consiglio Comunale.